Corso nuovo, siamo in una situazione dove con dispiacere siamo arrivati a fare questo cambio, però lo abbiamo ritenuto un momento opportuno visto anche il momento delicato del campionato, un momento utopico del campionato, di sicuro la squadra in questo momento stava accusando qualche difficoltà, abbiamo cercato in varie settimane di provare a fare il massimo per riprendere in mano un pochettino quella che poteva essere la condizione psicofisica generale della squadra, i risultati purtroppo non sono arrivati e come spesso succede nel calcio si decide di cambiare. Abbiamo sollevato mister Tedino, a cui sicuramente va un grosso ringraziamento per il lavoro svolto e tutto il suo staff e abbiamo inserito con noi Roberto Stellone e lo staff, a cui auguriamo un finale di stagione esaltante perché questo è quello che noi auspichiamo, sicuramente non sarà facile, già da domani abbiamo una partita decisiva e penso che in questo momento sia per noi la priorità concentrarci su questa partita, per cui penso che non mi devo soffermare a dire altro, penso che mister Stellone non ha bisogno di neanche tante presentazioni, è arrivato molto carico, con tanto entusiasmo e con la convinzione di poter far bene. Ecco, tutto qua.